Scarica ancora per Bruno Enrique, apertura ad aprire tutto su Rispoli, eccolo adesso il cross tagliato, colpo di testa di Nestorovski che trova un gol importantissimo, non per il Palermo ma per il discorso salvezza perché in questo momento la salvezza dell'Empoli è lontanissima e a Crotone sarà sicuramente scoppiato il delirio. Nestorovski a secco da 10 partite torna al gol, posizione regolare, il colpo di testa.